salve ragazzi e bentornati su onepiece.it vi ringrazio di essere qui dopo un capitolo straordinario oggi faremo un commento un pochino diverso dal solito non andiamo ad analizzare tutto ciò che è accaduto ma facciamo un discorso generale su quello che ci viene mostrato in onepiece e su a che punto è la storia no? allora sono anni e anni che onepiece ci appassiona sono anni e anni che ci viene raccontata questa storia che siamo entrati in questo mondo e ciò che sconvolge quel mondo è un po' anche come se sconvolgesse noi io penso a onepiece come se fosse una storia realmente accaduta però in un mondo parallelo e che in un qualche modo questa storia di questo mondo parallelo è arrivata fino a noi e ci viene tramandata settimana per settimana e Ciro Oda è riuscito a creare appunto un mondo un universo che si regge benissimo che ha delle regole proprie che difficilmente vengono intaccate no? quindi è riuscito davvero a creare qualcosa di straordinario a creare un universo che esiste che c'è che è lì e che noi ogni settimana scopriamo sempre di più e vedere un capitolo come quello di oggi in cui Joy Boy che è un personaggio che ha fatto la storia no? del mondo di onepiece è tornato è qualcosa che mi fa venire i brividi che è bellissimo pensate un attimo ragazzi ma provate immedesimatevi immedesimiamoci con quello che accade in onepiece prendete quella storia prendete quelle persone quei personaggi come personaggi veri pensate a quello che hanno passato e pensate a quello che sta accadendo pensateci bene immedesimatevi Joy Boy i tamburi della libertà che risuonano ritornano dopo 800 anni pensate 800 anni quanto sono lunghi pensate l'attesa di 800 anni pensate che noi siamo abituati nella nostra storia a considerare lontano ciò che è accaduto 50 anni fa ciò che è accaduto 50 anni fa ci sembra quasi come se appartenesse a un'altra era se pensiamo alle due guerre mondiali che sono più o meno accadute 60-100 anni fa no? ci sembra qualcosa di lontanissimo qualcosa che non ci appartiene poi succedono degli eventi che ci fanno capire che poi non è che siamo così distanti da quelle cose lì però comunque siamo sempre stati abituati a vederle come cose lontane in realtà sono cose che ci toccano in prima persona perché persone che abbiamo conosciuto sono appartenute a quell'epoca no? i nostri nonni hanno vissuto quell'epoca quindi siamo vicini eppure così lontani 800 anni fa nel nostro mondo ragazzi non era stata scoperta l'America no? c'era Dante 800 anni fa 1200 pensate a quanto tempo, quante cose sono accadute a quante cose sono cambiate pensateci un attimo a quante vite in questi 800 anni e ora immedesimatevi nel mondo di One Piece 800 anni, quante generazioni quante vite quanta attesa per un momento del genere per il ritorno di Joy Boy che sembra sorridere come Nika e quindi per il ritorno del Dio del Sole colui che libera gli schiavi e One Piece è un mondo in cui c'è bisogno di libertà no? quindi pensate all'attesa a quanto sono dovute quanto sono state pazienti le persone e quanti sono morti attendendo e alla volontà che è stata ereditata e che è andata avanti sempre più di generazione in generazione l'attesa che è andata avanti di generazione in generazione il mondo di One Piece che per 800 anni è stato bloccato governato da qualcuno che ha privato le persone della libertà che ha schiavizzato che ha fatto di quel mondo ciò che voleva ed ora dopo 800 anni dopo 800 anni d'attesa lo ripeto ancora una volta arriva questo sorriso sul volto di Rufy che significa un ritorno una nuova speranza una rinascita quello che probabilmente segnerà il cambiamento di un'era quindi che evento importante abbiamo letto non so se è il capitolo più bello di sempre di One Piece però è sicuramente uno dei più importanti è sicuramente quello che segna la vera svolta perché quello questo personaggio Joy Boy che sarà Rufy attraverso la volontà ereditata da Joy Boy è colui che cambierà il tutto ci sono stati altri capitoli sorprendenti altri capitoli che ci hanno colpito pensiamo a quello in cui si è scoperto che c'era Im Sama Im che governava alle spalle dei cinque astri di saggezza pensateci quello è stato un capitolo sconvolgente perché abbiamo scoperto di non sapere nulla del mondo di One Piece Oda è stato così bravo a raccontarci tutto tutto il mondo di One Piece ma a farcelo conoscere come persone comuni appartenenti a quel mondo no? e dopo ci ha detto guardate c'è qualcosa in più che è anche Im Sama alle spalle quindi questo mondo non è come lo credevate voi voi fino a quel punto eravate persone normali di questo universo non speciali poi vi ho rivelato vi ho fatto la dichiarazione sapete che c'è qualcos'altro all'infuori di quel che sapevate ora la vostra mente si apre prima era purtroppo chiusa dal potere il potere aveva ingannato anche voi stessi lettori perché quel potere si nascondeva dietro i cinque astri di saggezza e adesso quel personaggio Im Sama no? che è stata sicuramente l'apparizione forse più importante perché ripeto ci sconvolgeva non è neanche paragonabile la sorpresa lo è sicuramente perché era un capitolo sconvolgente in quanto sconvolgeva le nostre certezze ma quel personaggio non ha il potere di Joy Boy quel personaggio ha paura di Joy Boy il governo mondiale ha paura di Joy Boy perché Joy Boy è quello che può ribaltare le sorti cambiare tutto e quindi l'importanza di Joy Boy è arrivato è tornato il personaggio più importante di tutti il personaggio più decisivo all'interno del mondo di One Piece il personaggio che ridarà la libertà agli schiavi no? farà in modo di far sognare di nuovo le persone è un qualcosa di davvero bello ripeto durante la la reading mi sono venuti i brividi leggendo Joy Boy perché ormai ragazzi ci veniva nominato sempre più Joy Boy Joy Boy Joy Boy questa figura no? questo personaggio misterioso di cui abbiamo sentito la prima volta parlare durante la saga dei Uomini Pesce era sempre più presente e alla fine è arrivato è tornato e sconvolgerà tutto e tutti ciò significa anche credo che la fine di One Piece ragazzi non è così lontana come crediamo una volta arrivato Joy Boy una volta che Uono si aprirà e che Joy Boy proverà a ricambiare il mondo a riportarlo probabilmente ai fasti in cui era 800 anni prima attraverso il re grande regno manca poco no? pensateci Joy Boy è tornato cosa c'è da fare? una volta tornato Joy Boy cosa fa? inizia a viaggiare per i mari all'avventura? no la missione di Joy Boy è una cambiare il mondo quindi il cambiamento a inizio da adesso da questo capitolo in 1043 comincia il cambiamento del mondo di One Piece comincia la nuova missione la nuova vita di Joy Boy un Joy Boy che probabilmente 800 anni prima per un qualche motivo forse il tradimento di Zunisha non lo sappiamo ha fallito e ha dovuto attendere anche lui in qualche modo per 800 anni ed è tornato la sua volontà è tornata è apparsa ragazzi la persona di cui parlava Barba Bianca la persona che si metterà sulle spalle no? i desideri i sogni la volontà la storia 800 anni di storia e ripeto pensate a quante vite in 800 anni pensate a quante cose è accadute in 800 anni pensate in quante persone hanno sofferto in 800 anni quante morti pensate a quante cose sono accadute e ora Joy Boy torna Joy Boy torna e combatterà guiderà il mondo verso quella nuova alba di cui si parla e ripeto una volta giunti a questo momento quella fine di One Piece che abbiamo sempre individuato come lontanissima non è così lontana perché una volta che c'è Joy Boy inizia veramente la fine inizia veramente il momento in cui tutto sarà diverso in cui non si può più andare a destra e sinistra perdendo tempo si va a prendersi il pezzo grosso a sconfiggere il pezzo grosso no? quindi che bello questa è una svolta all'interno del mondo di One Piece il ritorno di Joy Boy segna una svolta capitolo che è stato davvero davvero bello emozionante emozionante lo ripeto perché comunque noi attendevamo attendavamo con ansia l'arrivo di Joy Boy io l'avevo detto qualche video fa avevo detto ragazzi ci divertiremo godremo stiamo per godere tantissimo i prossimi capitoli di One Piece ci daranno tanto e Oda non sta creando nuovi misteri quando parlava di Sangadnika quando parlava del frutto dei Gorosei quando diceva di Joy Boy Zunisci amico di Joy Boy non stava creando dei misteri stava dando piccole informazioni ci dava materiale su cui discutere per poi unire tutto tutte queste cose non erano come gli altri misteri quelli del passato Poseidon boh scopriamo chissà quando Joy Boy boh lo scopriamo chissà quando arma altra arma di Pluto lo scopriamo chissà quando la D lo scopriamo chissà quando no lui ci stava dando piccole informazioni che poi sarebbero venute fuori all'interno della stessa saga a distanza di capitoli Oda a Wano per la prima volta sta parlando e il fatto che lui stia parlando il fatto che lui stia dando informazioni vuol dire che la storia è al punto decisivo e Wano doveva essere una saga importante rappresenta il Giappone rappresenta la terra natia di Oda e rappresenta una delle isole più importanti anche del passato del mondo di One Piece se non la più importante secondo la teoria del re l'antico regno si chiamava Wano io non sono così convinto però comunque che Wano abbia avuto a che fare con l'antico regno è certo che fossero almeno alleati è certo quindi questa saga doveva raccontarci tanto e lo sta facendo e adesso viene il bello adesso viene il bello perché una volta che è ritornato a Joy Boy le carte verranno sempre più svelate bisogna vedere che coscienza ha Rufy come Joy Boy se può essere non lo so una trasformazione una modalità in cui perde conoscenza magari viene posseduto da questo Joy Boy questo Nika sempre se tutto si è coinvolto anche la questione di Nika bisogna vedere oppure un Rufy che prende coscienza di ciò che è no fare il discorso io sono il Super Saiyan combatto col cuore dirà la stessa cosa io sono Joy Boy sono qui per liberare tutti anche se Rufy ce lo vede un pochino di meno a fare queste cose quindi c'è tanta curiosità per i prossimi capitoli tanta tanta curiosità e che bello ragazzi quanto cazzo è bello One Piece davvero ragazzi quanto è bello e non voglio dire altro non voglio parlare di quello che è accaduto nel capitolo non voglio stare qui ad analizzare a provare a fare teorie avremo modo di parlarne durante queste due settimane in attesa del capitolo 1044 avremo tanto modo di parlarne ci saranno tante live video quindi c'è tempo oggi volevo solo così emozionarmi nel parlare di quest'opera che può avere delle piccole incongruenze può avere delle cose dei alti dei bassi è normalissimo però ripeto io la la vivo come se fosse una storia realmente accaduta appartenente a un altro mondo un mondo parallelo al nostro che in qualche modo ci viene raccontata settimanalmente questi fatti sono accaduti davvero Joy Boy in un mondo diverso dal nostro è realmente ritornato e ora dobbiamo scoprire cosa ha fatto e lo scopriremo presto davvero presto perché lo dico ancora una volta nei prossimi capitoli godremo stiamo già godendo e continueremo a godere quindi ragazzi non vedo l'ora di leggere gli altri capitoli di One Piece in vostra compagnia e commentarle con voi ovviamente e come sempre vi ricordo che se vi va potete iscrivervi a questo canale ciao ragazzi grazie